Buongiorno e ben ritrovati oggi è giovedì 24 marzo 2016 e questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che come tutte le mattine si apre con il santo del giorno oggi è giovedì santo entriamo nel vivo nel cuore per i cristiani nel cuore della settimana santa i giorni sono i giorni più importanti dell'anno questa mattina la messa a crismale con i vescovi ognuno nella propria diocesi poi la messa in cena domini questa sera domani il venerdì santo con la via crucis e poi la grande veglia la madre di tutte le veglie sabato sera allora il sole è sorto alle 6.02 tramonterà alle 18.26 il tempo vediamolo subito oggi ancora qualche residuo al sud di tempo instabile per quanto riguarda la provincia di Peso Rubino ancora invece il tempo sta migliorando anzi direi che le nuvole e la perturbazione ormai è passata venerdì domani venerdì in aumento le temperature il cielo sarà sereno per la giornata di sabato avremo un po' di nuvolosità soprattutto al mattino e poco nuvoloso invece nel pomeriggio le temperature sono in aumento la settimana entrante sarà con condizioni di lieve instabilità in particolare nella prima parte però al momento senza ferromini di rilievo vedremo poi magari nella giornata di domani un po' meglio nel dettaglio che cosa prevedono i meteorologi soprattutto per la giornata di Pasqua e Pasquetta allora cominciamo a leggere i giornali e partiamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino perché? Perché c'è la notizia che i risultati dell'autopsia o comunque quella che è la prima ipotesi cioè quella che Filippo Palazzi di 44 anni lo vedete nella fotografia è stato tradito dal suo cuore Filippo dal suo grande cuore e gli amici tornano in sella per lui è stata effettuata l'autopsia a Cesene ma si attendono ulteriori accertamenti e è stata organizzata una pedalata domenica a Sant'Orso mentre oggi alle 15 sempre nella chiesa di Sant'Orso ci sono, si terranno i funerali i funerali di Filippo Palazzi che è morto durante una gara ciclistica domenica mattina l'altra pagina invece del resto del Carlino, eccola qua il tossico, il pentito, il graduato, romanzo criminale alla Fanese i carabinieri svelano i protagonisti della gang sgominata parliamo dell'operazione Damasco, dalle intercettazioni telefoniche di un pesce piccolo fino all'arresto di 13 persone per droga e rapina l'operazione che appunto ha portato a 13 arresti tra Fano e Ancona per associazione a delinquere, finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana con modalità mafiose, è stato ripetuto e 45 indagati in realtà è partita dal furto al panificio Bellocchi di Rosciano del 26 agosto 2014 un furtarello da poche centinaia di euro però poi da lì insomma, da quel furto i carabinieri comandati dal capitano Alfonso Falcucci e diretti dal marisciallo Mauro Amati si erano messi subito sulle tracce di un tossico dipendente Fanese poi c'è tutto il racconto nel tutto questo filo che si può seguire interessante che porta poi a questo ottimo risultato dei carabinieri e si è parlato di mafia ne torna a parlare questa mattina il procuratore Palumbo la mafia c'è ma non la si vuol vedere il procuratore svela in retroscena dell'insediamento a Pesaro il magistrato dice anche un po' con una certa amarezza dopo l'inchiesta sulla commissione tributaria su Fiscopoli pareva che i cattivi fossimo noi e poi dice migliaia di persone provenienti in particolare dalla campagna sono residenti nella nostra provincia ma sono senza lavoro e la particolarità è che vivono bene e qui i conti insomma non tornano la prossima svolta può essere una guerra tra gruppi violenti per giudicarsi una zona oppure un territorio e allora quel punto sarebbe davvero pericoloso sono due le pagine dedicate in una come abbiamo visto si parla di mafia nell'altra invece nell'altra pagina del resto del carino della Corte dei Conti che batte cassa e dice pagate i danni della corruzione tra i casi trattati nel 2015 anche la vendita delle sentenze di Fiscopoli il procuratore Mirabella l'ex economo del comune di Urbagna deve rimborsare allo Stato un danno per esempio per 2 milioni di euro e poi c'è anche il racconto il resoconto di un processo per danno all'errario di un'impiegata del liceo classico Guido Nolfi di Fano Marotta ieri c'è stato cattivo tempo cattivo tempo che ha colpito in particolare il sud delle Marche Marotta invece finisce sott'acqua anche senza il diluvio garage e sottopassi sono finiti allagati marciapiedi trasformati in fiumi ciattoli la pioggia a Marotta non scorre mai via senza lasciare il segno a quanto pare le precipitazioni intense e ininterrotte che si sono abbattute sulla nostra regione a partire da martedì sere per tutta la giornata di ieri hanno causato nella cittadina balneare cesanese diversi danni e disagi e qui in questo articolo Franceschetti racconta un po' come è andata nella giornata di ieri poi si parla della settimana santa che entra nel vivo come dicevamo all'inizio della nostra rassegna stampa con la lavanda dei piedi oggi poi la veglia la messa il calendario delle celebrazioni pasquali tra preghiere e tradizioni c'è un fitto calendario in particolare qui si parla della diocesi di Pesaro un fitto calendario per gli eventi pasquali un appuntamento oggi alle 18.30 con la celebrazione eucaristica in cena domini con la lavanda dei piedi in cattedrale a Pesaro poi domani invece la via Crucis alle 14.30 una via Crucis cittadina a Pesaro proposta da Comunione e Liberazione in collaborazione con l'Arcidiocesi mentre per Fano non abbiamo avuto comunicazioni in merito ma se non ricordo male dovrebbe essere per esempio questa mattina la messa a Crismale alle ore 10 in cattedrale a Fano se no dicono tutti ma adesso parli sempre di Pesaro parliamo di cose di cui veniamo informati e quindi ecco questo è allora Pesaro la pagina del Corriere Adriatico mettiamo l'azzardo legale fuori gioco nuova campagna dell'ambito sociale per sensibilizzare ragazzi anziani sui rischi di slot e grattini questa è una piaga sociale vera e propria contro il grave problema sociale incontri sul territorio e due conferenze spettacolo di giovani scienziati la pagina di Fano invece del Corriere eccola qua pentito di mafia gestiva la rete dello spaccio è partita da Fano l'indagine che ha smantellato un traffico di droga ramificato in tutta Italia affiliato ad una cosca catanese e residente in città non aveva mai interrotto la sua attività criminale poi ricorderete è stato finito nei guai anche un sotto capo della capitaneria di Porto di Pesaro perché aveva un'arma clandestina in tutto sono stati eseguiti 19 arresti il cuore di Filippo non ha retto lo sforzo e questo l'esito dell'autopsia per il funerale alle 15 si attende il nulla osta della procura incontro di forza nuova e polemica sul permesso a Fano arriva il leader nazionale Roberto Fiore è in programma questo incontro per oggi alle 21 all'hotel Biorivaci in via Adriatico in via Adriatico Sassonia a Fano traffico in tilt invece per il maltempo come sempre chiusa via Le Ruggeri disagi e danni ieri per il maltempo bloccato il sottopasso per il Lido allagato un condominio a Marotta l'altra pagina del Corriere di Fano sul referendum arrivano le prime contestazioni la segreteria del comune non avvia la procedura il comitato invece è pronto adesso a protestare ritenuta e vietata la raccolta delle firme simultanea alla campagna per il voto sulle trivellazioni in mare l'altra pagina da Mondolfo l'arciprete laverà i piedi anche alle donne questa è l'innovazione che è stata introdotta nel rito del Giovedì Santo da Papa Francesco domani invece il Cristo morto le celebrazioni ospitate nella collegiata Donaldo parla di amore di Dio per tutti e fino alla fine anche qui troverete tutto l'elenco delle attività e delle iniziative per la settimana per il triduo pasquale eccetera Misa il fiume Misa a Senigallia fa paura scuole chiuse in anticipo attivato il COC che è il centro operativo comunale braccio di ferro tra il mare in burrasca e la piena del fiume tanti detriti sulla spiaggia tre cime in mattinata il fosso del crocifisso vallone allagati due sottopassi infiltrazioni in vari edifici però per fortuna tutto poi si è risolto Menichelli il cardinale ha celebrato con tutti i vescovi delle Marche il funerale del vescovo emerito Fusipecci vescovo di Senigallia c'erano anche tanti fedeli sindaci e autorità e Menichelli il cardinale ha detto sono sempre stato ammirato dalla fede di Odo si chiamava così Odo Fusipecci mentre sotto non ce l'ha fatta il pediatra Perissi che oltre un mese e mezzo fa fu travolto da un cicloamatore era anche uscito dal coma ma purtroppo non si era ripreso e dunque è morto Guido Perissi 77 anni il messaggero invece allarme per i malati di gioco d'azzardo già 100 i casi in cura già 100 le persone che si stanno facendo curare da questa patologia al via una campagna dell'ambito sociale in collaborazione con il dipartimento delle dipendenze dell'Asur e tre cooperative arriva il sottosegretario all'interno Occhielli chiede più forze dell'ordine invece l'altra pagina del messaggero anche qui droga e usura caccia adesso all'arsenale un lungo lavoro di intelligence dietro l'operazione Damasco che ha permesso di smantellare l'organizzazione con 13 arresti il ruolo del collaboratore di giustizia siciliano trasferito sotto copertura a Fano che in realtà faceva il doppio gioco e qui vedete il capitano della compagnia carabinieri di Fano Falcucci le intercettazioni hanno rivelato l'esistenza di molte armi forse spostate quando la banda si è sentita in pericolo e si dice sorpreso il comandante capuzzimato della capitaneria di Porto di Pesero quando si è visto arrestare il sotto capo dice sono sorpreso si è sempre comportato bene sul lavoro adesso è stato chiaramente sospeso dal servizio chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero nuovo ospedale il centro destra scusate il centro sinistra cerca di superare la spaccatura trattativa serrate perché la maggioranza si presenti in consiglio con una linea unitaria all'interno del PD la lacerazione peggiore tra chi sta con il presidente Ceriscioli e invece con chi sta con il sindaco di Fano Massimo Seri sindaco che dovrà sentire il governatore Ceriscioli per suggerirgli di modificare la delibera su Fosso Signore al centro di tante polemiche poi sul referendum eccolo qua il referendum il comitato referendario salviamo il Santa Croce incontra ostacoli da parte del comune come abbiamo visto anche sul Corriere Adriatico Burrasca torna l'incubo in via Ruggeri l'ondata di maltempo ha causato anche qualche allegamento a Marotta mentre un vertice sulla sicurezza con la Capitaneria di Porto di Fano si è tenuto alla Mediateca Montanari un incontro indetto dal comandante del Porto Fanese Eliana di Donato al quale hanno partecipato diversi soggetti noi ci fermiamo qui la rassegna stampa dunque è finita Occhio Giornali torna domani mattina come sempre in diretta alle 7.30 on demand sul nostro sito internet occhialanotizia.it sito che tra poco pubblicherà anche la notizia invece la notizia di uno dei tanti furti che purtroppo avvengono tutte le notti ormai è sistematico pubblicherà la foto e la notizia di un furto che so che la redazione sta battendo quindi vi invito tra poco a vedere il nostro sito internet occhialanotizia.it stasera invece c'è il telegiornale alle 20.30 grazie poi c'è anche tutta una serie di dirette con il Centro Televisivo Vaticano perché c'è chiaramente Papa Francesco con tutte le celebrazioni della Pasqua che come sempre da dieci anni a questa parte seguiamo sempre in esclusiva con il nostro con la nostra emittente quindi anche questo è un grande servizio a cui teniamo molto di cui andiamo orgogliosi e fieri grazie per aver seguito la rassegna ci vediamo domani a Grazie a tutti.